Il giornalino di Gian Burrasca, 24 dicembre. Il dottore ha detto che il braccio ritornerà certo come prima, ma intanto io non posso muoverlo. Luisa, alla quale il babbo aveva scritto di questa mia malattia, ha risposto proponendo di mandarmi da lei a Roma, dove il dottor Collalto dice che c'è un suo amico specialista che mi farebbe la cura elettrica e il massaggio sicché potrei trattenermi da loro durante le vacanze di Natale e poi ritornare a casa guarito. Io ho incominciato a urlare dalla contentezza e avrei anche battuto le mani se mi riuscisse ad alzare il braccio. Però, ha detto il babbo, con che coraggio ti si può mandare fuori di casa? Io starei sempre in pensiero di qualche disgrazia, ha aggiunto la mamma. L'Ada ha messo la nota finale. Bisogna proprio dire che il Collalto sia un buono amo a invitarti a casa sua dopo il bel regalo di nozze che gli facesti. Io sono rimasto così avvelito da quel plebiscito che la mamma si è mossa con passione e ci ha messo subito una buona parola. Se almeno, dopo tanti guai, promettesse proprio sul serio ed essere buono ed essere gentile col dottor Collalto, Sì, lo prometto! Ho gridato con quello slancio e quell'entusiasmo che metto sempre nelle mie promesse. E così, dopo un po' di discussione, è stato stabilito che per Santo Stefano il babbo mi accompagnerà a Roma. Io sono felice e benedico il momento in cui mi sono rovinato il braccio. Andare a Roma è un mio antico sogno e non mi par vero di vedere il re, il papa, gli svizzeri e tutti i monumenti antichi che ci sono. Quello poi che mi solletica di più di tutto è l'idea di far la cura elettrica e solamente a pensarci mi par di sentirmi dentro il corpo una batteria di pile e non posso star fermo. Viva Roma capitale! Capitale! In questo momento ho saputo che Cecchino Bellucci sta male, pare che sia proprio un affare serio e che sia difficile che la gamba gli ritorni come prima. Povero Cecchino, ecco che cosa si può andare incontro quando ci si vanta di saper fare una cosa mentre invece non se ne sa niente. Però mi dispiace molto di questa cosa perché Bellucci, con tutti i suoi difetti, è un buon ragazzo. 25 dicembre Io preferisco a tutti gli altri mesi dell'anno quello di dicembre perché c'è il Natale e Caterina fa sempre due bei budini, uno di riso e uno di semolino perché alla mamma piace quello di semolino e quello di riso non lo può soffrire e il babbo va matto per quello di riso mentre quello di semolino la ha noia come il fumo agli occhi. Io invece li preferisco tutti e due e siccome anche il dottore dice che tra i dolci i budini sono i più igienici, così ne mangio quanto mi pare e nessuno mi dice nulla. 26 dicembre Parto per Roma fra due ore. C'è una grande novità, il babbo non viene ad accompagnarmi ma mi affida invece al signor Clodoveo Tirinnanzi, il suo intimo amico che viene appunto nella capitale per affari e che mi consegnerà al dottor Collalto, nelle sue proprie mani medesime, come ha detto lui. Che tipo buffo è il signor Clodoveo? Prima di tutto vuol far sempre il forestiero e si è cambiato gli del suo cognome, che sarebbe Tirinnanzi, in tanti i psilonni, facendone un tirinnanzi perché dice che nel suo commercio, rappresentando le principali fabbriche di inchiostri dell'Inghilterra, gli giova a presentarsi con tre i psilonni. E poi è un tombolotto grosso e grasso con un faccione largo contornato da due cespugli rossi di fedine e con un nasino più rosso che mai e tondo tondo nel mezzo, che pare proprio un di quei pomodorini piccoli ma tutto sugo. Bada, gli ha letto il babbo, ti prendi una bella responsabilità perché Giannino è un ragazzaccio, capace di tutto. E ha risposto il signor Clodoveo, ma non sarà capace di scuotere la mia flemma inglese garantita come i miei inchiostri. Se non è buono, gli tingo la faccia e lo mando in una colonia indiana. Marameo, ho detto fra me, e son salito a prepararmi la valigia con Caterina perché da me solo col braccio malato non posso. Ho messo tutto quel che mi può correre a Roma. Le tinte, la palla di gomma coi tamburelli, la pistola col bersaglio e ora metterò anche te, mio caro giornalino, che mi accompagni in tutte le vicende della mia vita. Arrivederci dunque a Roma. 27 dicembre Giornalino mio, ti riprendo subito appena arrivato a Roma perché ho da narrare nelle tue pagine tutte le mie avventure di viaggio che non sono piccole né poche. Ieri, poco dopo che si fu partiti, il signor Clodoveo si mise a porre in ordine la sua roba esclamando Meno male siamo noi due soli e speriamo che si rimanga così fino a Roma. Vedi ragazzo mio, questa è la mia cassetta con i miei campionari. Guarda qui quante boccette e boccettine. E che varietà di inchiostro ne avresti da scrivere per tutta la vita. Questo è inchiostro per penne silografiche. Questo qui è inchiostro per i ministeri dei quali ho la fornitura. E su questi ci guadagniamo bene, sai? Vedi? E bisogna che io sappia fino a puntino i prezzi di tutti e la qualità chimica. Ci vuole la testa a posto, sai, per il commercio. Io da principio mi sono divertito molto a vedere tutte quelle boccette. Ma poi il signor Clodoveo ha avuto un'ispirazione infernale e mi ha detto Ora sta attento a tutte le principali stazioni dove si ferma il treno. E guarda dal finestrino. Io ti spiegherò l'importanza di tutte le città e te le farò conoscere meglio che la geografia. Perché io ho la pratica commerciale e questa fa più di tutti i libri. Infatti via via che si arrivava a una stazione il signor Clodoveo si affannava a far la sua brava lezione peggio del professor Muscolo finché a forza di sentire spiegazioni mi sono addormentato profondamente. Quando mi sono destato ho visto nel divano di faccia il signor Clodoveo che dormiva russando come un contrabbasso. Mi sono affacciato al finestrino e mi sono messo a guardare la campagna. Ma poi mi sono seccato e non sapevo che cosa fare. Ho aperto la mia valigia, ho riguardato tutti i miei balocchi ma ormai li conoscevo da un pezzo e non bastavano a farmi passare la noia da dosso. Allora ho tirato giù la cassetta dei campionari del signor Clodoveo e mi sono divertito a riguardare tutte quelle boccette con i cartellini di tutti i colori. In quel momento il treno si era fermato e dal finestrino ho visto che un altro treno era fermo di faccia a noi per lo scambio a pochissima distanza tanto che spendolandomi fuori forse avrei potuto toccare la faccia dei viaggiatori che vi stavano affacciati. E' stato allora che mi è venuta un'idea terribile. Se avessi uno schizzetto ho pensato mentre pensavo a questo lo sguardo si è fermato sulla palla di gomma che era nella mia valigia rimasta aperta e allora ho detto fra me e perché non potrei fabbricarmelo? E cavato di tasca il temperino ho fatto un buco nella palla poi ho preso tre bottigliette di inchiostro dalla cassetta del signor Clodoveo e sono andato nella ritirata dove stappata le boccette ho versato il contenuto nella catinella allungandolo con l'acqua fatto questo ho sgonfiato la palla e immersala nella catinella l'ho riempita quando sono tornato nello scompartimento il treno di faccia si muoveva e i viaggiatori erano tutti affacciati non ho fatto altro che sporgere un po' le braccia fuori del mio finestrino e stringere gradatamente la palla tra le mani col foro rivolto in avanti ah che emozione, che effetto, che divertimento campassi mill'anni non riderò mai quanto riso in quel momento nel vedere tutti i visi affacciati che da principio avevano una grande espressione di stupore e poi subito di rabbia spenzolarsi fuori in mezzo alle braccia che mi tendevano i pugni chiusi mentre il treno si allontanava mi ricordo perfettamente di uno che ebbe uno schizzo di inchiostro in un occhio e che pareva diventato pazzo e rugiva come una tigre se lo incontrassi lo riconoscerei ma forse è meglio che non lo incontri più il signor Clodoveo intanto seguitava a dormire come un ghiro sicché io ebbi il tempo di rimettere a posto la sua cassetta dei campionari in modo che non potesse accorgersi di niente e tutto sarebbe andato a finir bene ed egli non avrebbe avuto di che lamentarsi di me se più tardi non mi fosse venuta un'altra idea peggiore della prima perché questa ha avuto delle serie conseguenze ricominciavo a seccarmi di vedere sempre il signor Tirinnanzi sdraiato sul divano e di sentirlo strofinare quando disgraziatamente mi dette nell'occhio il manubrio del segnale d'allarme che pendeva da una cassettina sospesa nel soffitto dello scompartimento bisogna sapere che qualche altra volta mi aveva dato nell'occhio quel gingillo e che sempre avevo provato una grande tentazione di vedere che cosa succede in un treno quando si dà l'allarme questa volta non seppi resistere montai sul divano, infilai la mano nel manubrio e tirai giù con quanta forza avevo il treno si fermò quasi istantaneamente allora aiutandomi alla meglio col braccio malato mi riuscì ad arrampicarmi sulla rete dove si mettono le valigie e mi cercovacciai stando a vedere che cosa sarebbe accaduto immediatamente si aprirono tutti e due gli sportelli dello scompartimento e cinque o sei impiegati vi entrarono dentro fermandosi dinnanzi al signor Clodoveo che seguitava a dormire e uno scotendolo disse ah forse gli è venuto un accidente il signor tirai innanzi si svegliò di soprassalto esclamando che ripigli? e allora vennero le spiegazioni lei gli ha dato il segnale d'allarme io niente affatto eppure è stato dato da questo scompartimento ah è Giannino il ragazzo dov'è il ragazzo? esclamò a un tratto come fuori di sé il signor Clodoveo ah forse qualche disgrazia dio mio il figlio di un mio amico che mi era stato affidato mi cercarono nella ritirata guardando sotto i divani finalmente un impiegato mi scoprì accucciato tra due valigie sulla rete ed esclamò eccolo lassù disgraziato gridò il signor Clodoveo tu hai dato il segnale d'allarme che hai fatto? oi risposi con voce piagnucolosa perché ora capivo tutto il male fatto mi doleva tanto il braccio malato ah per questo ti sei arrampicato lassù intanto due impiegati mi avevano preso di peso e mi avevano tirato giù mentre gli altri erano corsi via a far ripartire il treno lei sa che c'è la multa? dissero gli impiegati lo so ma la pagherà il padre di questo signorino rispose il signor Clodoveo guardandomi come se mi avesse voluto incenerire intanto però bisogna che paghi lei ma se io dormivo? appunto dal momento che le era stato affidato al ragazzo doveva vigilarlo sicuro esclamai io tutto contento guardando l'impiegato che dava prova di tanto senso comune la colpa è del signor Clodoveo ha dormito per tutto il viaggio il signor tirinnanzi fece l'atto come di strozzarmi ma non disse niente è stato fatto il verbale di contravvenzione e il signor Clodoveo ha dovuto pagare la multa rimasti soli ha durato un pezzo a dirmi delle impertinenze e il peggio è stato quando essendosi egli ritirato nella ritirata è riuscito fuori e dopo aver dato un'occhiata nella sua cassetta dei campionari si è accorto delle boccette che mancavano che hai fatto dei miei campioni d'inchiostro assassino ha gridato ho scritto una lettera ai miei propri genitori ho risposto tremando come una lettera qui mancano tre bottigliette ne avrò scritte tre ora non mi ricordo ma tu sei peggio di Tiburzi come fa la tua povera famiglia a sopportare una canaglia come te e così ha seguitato a dirmi parolacce finché non siamo arrivati a Roma bel modo questo di accompagnare un ragazzo affidato da un amico ma io ho avuto prudenza e non gli ho risposto mai a niente meno che quando mi ha consegnato a mio cognato con l'alto al quale ha detto tenga glielo consegno intatto ma in parola d'onore darei dieci anni di vita piuttosto che essere nei piedi di lei che è costretto povero signore a tenerlo per diversi giorni Dio gliela mandi buona hanno ragione a chiamarlo Gian Burrasca allora non ne ho potuto più e gli ho risposto con codesti piedoni che ha lei invece dovrebbe ringraziare Dio se potesse essere nei piedi di chiunque altro e in quanto a Gian Burrasca è meglio farsi chiamare così che farsi chiamare con tre y come fa lei che è proprio una ridicolaggine il dottor collalto mi ha fatto cenno di stare zitto e mentre mia sorella mi faceva passare in un'altra stanza ho sentito che egli diceva sospirando si comincia bene in un'altra stanza